Decima giornata di ritorno per il campionato d'eccellenza. Il Cannara ospita l'Orvietana, padroni di casa che dopo la sconfitta nello sconto diretto con la sua base di domenica scorsa hanno subito l'occasione di rifarsi sotto in virtù della sconfitta del Bastiel ad opera del Fontanelle Blanca di sabato. Inizia subito forte il Cannara e al quarto minuto c'è già la prima occasione. Calcio di punizione, palla bassa che schizza in aria, Sganappa blocca terra. Insistono però gli uomini di farsi e dall'ottavo trovano il vantaggio. Fastellini appoggia dietro per la corrente Camilletti che con un berra su terra in diagonale batte Sganappa e sigla l'1-0. Cannara che allenta la pressione ma l'Orvietana dal canto suo non riesce comunque a creare occasioni pericolose. Arriviamo quindi al 37esimo con i padroni di casa che manovrano una bella azione in attacco con Fastellini che cerca di Giuseppe dentro l'aria. Bravo Avola chiuderà l'ultimo istante. Al 43esimo ancora Fastellini protagonista, ruba parla al limite dell'aria e cerca la conclusione sotto il 7, alto di poco. 46esimo minuto, sostituzione nelle file dell'Orvietana, Mancinelli sostituisce Avola che esce per infortunio. Prima del riposo c'è ancora spazio per nuove emozioni. Cascianelli serve Fastellini in area di rigore. Il numero 9, Cannarese, è bravo a controllare e a concludere in girata. 2-0 Cannara. Secondo tempo che si riapre ancora con i padroni di casa sempre all'attacco. Al 15esimo di Giuseppe serve Fondi al centro ma la conclusione è fuori di poco. Ospiti che anche in questa seconda frazione non riescono ad affondare con la propria manovra offensiva che non mette mai veramente in pericolo la retroguardia avversaria. Al 26esimo Fastellini chiude tutti i giochi. Azione personale del numero 9 che entra in area di rigore centralmente. Salta l'uomo e con un bel tocco liftato batte ancora a sganappa, siglando la rete del 3-0 e la sua doppietta personale. L'ingotto si va via spegnendo con i padroni di casa in pieno controllo della partita che non subiscono mai i veri propri affondi da parte degli ospiti. Finisce quindi con la vittoria per il 3-0 del Cannara che si proietta insieme a Subba e Sebastia in una volata finale ricca di emozioni. Beh no, io penso che oggi bisogna essere onesti, il risultato è corretto, è giusto. Hanno interpretato meglio la partita, il campo. Sapevamo della forza del Cannara, bisognava essere bravi ad interpretare bene la partita, è un campo pesantissimo. Su due situazioni dove noi siamo stati abbastanza passivi, loro sono stati bravi, seconde palle sporche perché in quelle situazioni lì non era facile. Ci hanno fatto due gol al primo tempo, il primo tempo penso che è abbastanza equilibrato però sicuramente in predominio del Cannara e in più due situazioni si riuscì a buttarla dentro quindi sono andati in vantaggio meritatamente. Il problema è che noi non abbiamo assolutamente raggiunto il nostro obiettivo, anzi siamo pienamente in corsa e mi aspettavo dai ragazzi un atteggiamento più battagliero considerando il fatto che c'era anche un tasso di qualità di fronte importante. Sicuramente dobbiamo assolutamente rimboccarci le maniche perché la strada è lunga e dobbiamo ricominciare velocemente a far punti. Venivamo da un paio di prestazioni ottime, oggi sicuramente scarsa, mediocre, quindi merito al Cannara che ha vinto una buonissima partita, hanno fatto un'ottima partita e noi ripartiamo da mercoledì con un atteggiamento diverso sicuramente. Adesso siamo sempre terzi come domenica scorsa anche se abbiamo guadagnato sul Bastia però questo è un campionato che se uno pensa che le partite sono facili vuol dire che di calcio capisce poco non so se l'ho detto al giornalista in un'intervista o se l'ho detto alle televisioni ma qui ogni domenica può succedere qualcosa quindi a me non mi ha stupito per dire che ieri il Bastia abbia perso a branca e non mi stupirei se le prossime occasioni succedesse qualcosa, noi speriamo di no perché già abbiamo andato domenica però all'ilà di questo oggi è stata una grandissima prestazione della squadra, credo che il risultato sia legittimo il campo ovviamente era molto difficoltoso però l'abbiamo interpretato bene da subito e adesso aspettiamo la partita di mercoledì a Bastia, credo che Sanzista Angelana abbiano perso dietro quindi abbiamo messo anche un buon sigillo sulle prime tre posizioni, speriamo di non farci recuperare da dietro e ovviamente a questo punto dobbiamo puntare dritti a provare a riprendere la subassi